Io pregherei il ministro per la disabilità, Erika Stefani, alla quale io vorrei rivolgere questa domanda. Il terzo settore conta presto a poco sulle 300.000 realtà operative. Se tutto questo si fermasse, come lo Stato potrebbe fare? Perché è fondamentale, io credo, l'aiuto che queste realtà danno appunto per la cura, per il sostegno delle persone più fragili. Grazie. Grazie veramente per darmi uno spunto proprio per iniziare anche un intervento, ma in primis, mi corre l'obbligo, ma anche il grandissimo piacere di ringraziare l'Agenzia delle Dogani Monopoli e il direttore Minena per questa occasione, per questo evento, per questo invito. Il terzo settore, come tutto il mondo di questo strano paraprivato, diventa assolutamente insostituibile a giorno d'oggi nel sistema delle disabilità. Il sistema delle disabilità è molto particolare all'interno del panorama proprio anche istituzionale italiano. Se noi pensiamo non vi è un ramo dell'amministrazione, dello Stato o di una linea di governo che abbia una governance unica sul tema delle disabilità, proprio perché il tema delle disabilità non è una nicchia normativa, non è una nicchia regolamentare, non è una nicchia sociale, ma attraversa tutta la nostra società e tutte le nostre istituzioni. Per questo il mondo proprio, perché è un mondo delle disabilità, ha la capacità di reagire nel momento in cui tutti questi protagonisti lavorano e collaborano insieme, ma non una collaborazione solo sotto un profilo retorico, ma proprio una coprogettazione. Ma io penso che l'esempio ce l'abbiamo anche oggi, visto che siamo anche in questa sede. Se noi guardiamo queste parole, che cosa possono centrare le accise, le dogane, i monopoli con le disabilità? Cioè la grande domanda è che cosa c'entra, l'agenzia. Il mondo delle disabilità ormai permea tutta la nostra società e tutta la nostra attività. E quello che ha fatto l'agenzia delle dogane è raccogliere una grande sfida, che è la sfida del futuro, e di fare sì che il tema delle disabilità non sia relegato a un ambito puramente assistenziale, assistenzialistico. Quello che dico sempre è quello di cui ci si ricorda a Natale quando devi metterti a posto con la tua coscienza e devi fare una donazione. Non è così. Stiamo passando oggi da un sistema assistenzialistico a un sistema non solo di riconoscimento dei diritti, ma una sensibilizzazione e un coinvolgimento di tutti. Inclusione. La vera inclusione, che non è una parola retorica, significa proprio questo, che l'agenzia delle dogane parli di disabilità, che intervenga su sociale e non lo fa. E non lo fa solo per dire accresco un po' il nome dell'agenzia delle dogane, gli do un po' di lustro. No. Significa essere impegnati attivamente. Anche questo progetto che noi vediamo è un progetto bellissimo, dove diamo un'occasione, diamo una vetrina, diamo un'immagine del mondo delle disabilità, che non è quella del corridoio dell'istituto. Stiamo parlando della nostra piena società. Adesso qua vedo anche qui davanti a me il sottosegretario Avezzali e il grandissimo saluto Luca Pancalli. Sapeva già che mi stavo rivolgendo a lui quando ho sentito grandissimo. Di quello che avete fatto, di quello che sta facendo, è anche lo stesso sport. Cioè lo sport, questo tema del parolimpico, non è più qualcosa. È sport, punto. È sport. E dove si è visto anche l'Italia eccellere. E non è che l'Italia sta eccellendo su alcuni temi perché all'improvviso si è svegliata la mattina e con una grande illuminazione ci siamo trovati vincitori. Perché si vince? Si vince perché si è costruito un percorso di allenamento, di fatica, di preparazione, di sistema che per certi versi è ordinato, organizzato, determinato. Poiché alcuni progetti viaggiano perché c'è la persona che porta avanti l'idea. Questo è ovvio indubitabile. Ma sta permeando pian pianino il tema della inclusione, sta permeando tutte le nostre attività. E lo vedo, ed è un dato positivo, da quando ho avuto questo incarico come Ministro delle Disabilità, sinceramente sono stato anche sommerso, il nostro ufficio è stato anche sommerso di richieste, di partecipazione, di condivisione, di progettualità da parte di enti che magari non ce l'hanno nell'oggetto sociale la disabilità. Ed è questo il bello, questo significa che si sta andando verso il futuro. Le istituzioni si muovono, l'agenzia ha raccolto questa sfida, le imprese raccoglieranno la sfida perché il passaggio futuro sarà quello di fare sì che anche il mondo dell'impresa valorizzi e consideri il mondo delle disabilità non come una quota da assumere obbligatoria nel collocamento mirato, ma una valorizzazione delle persone. Siamo una squadra, sono le squadre come quando si fa sport, ognuno ha il suo ruolo. Io non ho a pallavolo ma avevano messo solo a fare il centrale perché quello sapevo fare. ognuno ha una sua caratteristica, ti valorizzi per quello che sai fare e le persone con disabilità è lo stesso. Guardiamo alle persone per quello che sanno dare, non per quello che è deficitario. Quindi grazie. Grazie veramente signori. Mi perdonatemi se mi dovrò allontanare, ma sono chiamata a partecipare la cabina di regia anche abbastanza articolata, abbiamo dei temi nei prossimi qui due giorni dal Green Pass alla questione ovviamente del conflitto, alle questioni ovviamente del caro energia, per cui perdonatemi se mi dovrò allontanare. Grazie ancora. Grazie, grazie Ministro, veramente grazie.